Perché Alessandro Mussolini, guarda caso una signora che si chiama Rachele Mussolini viene candidata e prende anche tanti voti. Ora io dico, un partito che vuole far dimenticare il fascismo, e vabbè, ti dirai che uno non si può candidare. Ma guarda caso, tra tante persone... Scusa, Alessandro Mussolini quando parla bene del DDL, Zan va bene, anche se si chiama Mussolini. E un altro se si chiama Mussolini non va bene perché si chiama in Fratelli d'Italia. Siamo seri. Posso fare una domanda a Sallusti? Tu puoi fare una domanda, ma se mi dici una cosa, che è platealmente una stupidaggine... No, no, platealmente la stupidaggine lo dici a tua sorella, scusami. Alessandra Mussolini come si chiama? Alessandra Mussolini, parla bene l'IDL, Zan... La stupidaggine lo dici a qualcun altro innanzitutto. Quindi ora fai un attimo silenzio. Scusa, no, no, no. No, fai un attimo silenzio e scusami. Il cognome è lo stesso, scusami. Allora...